ciao a tutti oggi prepareremo la granita alla ricotta il tempo di preparazione della ricetta è di cinque minuti circa gli ingredienti sono ricotta di pecora zucchero semolato ghiaccio e cannella diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cannella e lo zucchero e li facciamo polverizzare in 15 secondi a velocità 10 poniamo sul fondo del boccale lo zucchero aggiungiamo la ricotta e azioniamo il bimbi per cinque secondi a velocità 7 veniamo sul fondo aggiungiamo il ghiaccio chiudiamo con il coperchio senza il misurino posizioniamo la spatola del bimbi e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità da 6 sino ad arrivare a 10 spatolando la granita alla ricotta è pronta serviamola subito in dei bicchieri o posizioniamola in congelatore dalla ricotta grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti